tra gli ultimissimi colpi di Tiago Pinto prima di lasciare definitivamente la Roma Tommaso Baldanzi per soli 15 milioni compresi i bonus subito a titolo definitivo immediatamente aggregato alla squadra di De Rossi 23 marzo 2003 deve ancora compiere 21 anni titolare sia in questa che nella scorsa stagione in serie A con l'Empoli anche se con pochi gol e pochi assist ma tantissima qualità tanta tecnica tanto gioco e un'intelligenza sicuramente da perfezionare dal punto di vista tattico nel senso che a margini di miglioramento ma è sicuramente un giocatore che può tornare subito utile ai giallorossi cresciuto sempre nell'Empoli giocatore brevilineo giocatore molto dinamico quindi tecnico nello spazio stretto lì dove sembra da queste prime due partite che De Rossi voglia far agire di più la sua squadra i suoi ragazzi e cioè creando degli spazi nello stretto facendo più gioco sfruttando poi la tecnica di giocatori che c'erano già come naturalmente Paredes di bala anche Awar quello che potrà giocare e pure gli altri che comunque sono in grado di fare possesso palla nello stretto creando occasioni da gol con l'inserimento negli spazi e le strutture di gioco offensivo nelle quali Baldanzi si può inserire davvero la grande non parliamo di un fenomeno ma parliamo di uno dei principali talenti del calcio italiano e se lo aggiudica la Roma forse non c'era una vera e propria asta però la cifra sicuramente non è elevata anzi altre squadre italiane avrebbero preteso sicuramente di più per un giocatore come Baldanzi quindi 10 milioni più bonus sono assolutamente un ottimo affare c'è infatti molto interesse nella capitale sponda giallorossa per questo ragazzo che sta infatti già svolgendo le visite mediche appunto sarà prontissimo per scendere in campo agli ordini di De Rossi alzando la qualità e rappresentando comunque non solo un colpo per l'immediato che naturalmente anche fa seguito al cambio di allenatore quindi un cambio di prospettiva e di interpretazioni per quelle che sono le caratteristiche della rosa ma si tratta naturalmente di un acquisto per il futuro dovrebbe esserci anche la percentuale sulla futura rivendita e questo è abbastanza scontato in operazioni come queste ma se la Roma punterà a fare di Baldanzi un titolare non ci sarà un grosso problema di andare a venderlo per una plusvalenza o comunque per assecondare eventuali futuri obiettivi del ragazzo di salire di livello o magari per rispondere alle offerte che potrebbero arrivare chi lo sa magari anche dall'estero se il giocatore sarà adeguatamente valorizzato piede preferito sinistro trequartista prevalentemente centrale ma con ottima capacità di stare anche sulla destra di lui colpisce anche la capacità dell'aggressione in avanti quindi del pressing alto con riconquista del pallone conduzione strappo anche a lunghi oltre che naturalmente tiro dalla distanza e geometrie e invenzioni dal limite dell'area per una Roma che con il cambio di modulo forse ha qualche carenza proprio sulla trequarti si tratta di un ottimo innesto grazie a tutti